Saluta Ciao Ho paura dei cani Quando mai? Ma qua ci sono dei pastori mare in mano che guardano in Grecia che se ti abbinino un attimo ti sbranano Viva Ecco Eccetacolone 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 Bellissimo Che veglia su Caggiano Siamo su in Brasilo dove vai? dove vai? sono le pecore state calmo senza parole vieni che ci stendiamo un po' ma vedi dove ti senti su questo che punge sul cardoncillo vieni vieni noi facciamo la corancina di margherita qui sono le mucche sono giù non è mezzogiorno suonano le campane lì è polla non ci sentano non ci sentano che salita ragazzi però ne vale la pena pausa pausa non... non ci sentano non ci sentano non ci sentano